La verità rende liberi è una frase che troviamo scritta fuori dall'Università di Freiburg in Germania dove Martin Heidegger ha insegnato per tanti anni nel secolo scorso. Uno potrebbe pensare che questa frase costituisce l'antistitismo totale di un'altra terribile frase che si trova davanti ad Auschwitz, il lavoro rende liberi. Eppure Heidegger in qualche modo è riuscito a legare queste due frasi così incompatibili con i suoi quaderni neri, cioè questi diari filosofici che sono apparsi dopo la sua morte ma per sua volontà in cui ha delle affermazioni gravemente antisemite. È stato detto che quello di Heidegger è un antisemitismo metafisico, è un'espressione un po' problematica, quasi bizzarra, un po' come dire che quello di Goering è un antisemitismo aeronautico. L'antisemitismo è antisemitismo e basta, cioè è un pregiudizio, un grave pregiudizio che esprime per esempio nel caso specifico della Germania dell'epoca il terrore borghese umiliato, il temore del bolshevismo, l'angoscia, i temori e i tremori di un'intera generazione. Il vero miracolo secondo me non sta tanto nel nobilitare filosoficamente questi testi che hanno un interesse storico indubbiamente ma piuttosto nel riconoscere il fatto, la trasfigurazione per cui questi stessi sentimenti già presenti in Heidegger avevano prodotto nel 1927 uno dei capolavori assoluti della filosofia, cioè essere tempo. Lutto nel mondo della cultura per la morte del filosofo tedesco Martin Heidegger. Il filosofo è morto oggi a 86 anni nella sua cittadina natale, Messkirch, nella Germania occidentale. Insieme a Jaspers era il massimo esponente dell'esistenzialismo tedesco. Una delle opere maggiori di Martin Heidegger è L'essere e il tempo, pubblicata nel 1927. Livia Profetti dell'Università di Ruen e Paolo Vinci dell'Università della Sapienza di Roma. Abbiamo appena visto il telegiornale che annunciava la morte di Heidegger e io personalmente ho un chiaro ricordo di questo telegiornale e lì si diceva di lui come autore di L'essere il tempo. Piccolo errore di cosa. Adesso forse si parlerebbe di lui come autore dei quaderni neri e certo una cosa un po' ne nasconde un'altra. Questo è il problema che ci terrò occupati. Però prima di entrare in questo dialogo vorrei presentare questo documento filmato che ha fatto Gunther Fiegel, già presidente della società ideggeriano, nonché professore a Freiburg, sull'effetto che a lui in persona ha fatto leggere questi quaderni neri. Come prima cosa posso dire che leggendo questi testi che chiamiamo i quaderni neri sono rimasto molto sorpreso da queste dichiarazioni antisemite. Si sapeva che Heidegger in privato, in alcune lettere o pareri su colleghi, si era espresso in questo senso. Ma è stato scioccante scoprire che avesse inserito questo infame ressentiment in una dissertazione filosofica. E i quaderni neri sono in certa misura una dissertazione filosofica. La questione ora è come valutare ciò. Ci sono due filoni di pensiero che si fronteggiano, nell'intenso dibattito pubblico e accademico, che si è svolto finora a riguardo. Ovvero, da un lato c'è chi considera l'antisemitismo di Heidegger come un fatto privato e lo tiene separato dalla sua filosofia, in pratica separando l'uomo Heidegger, con i suoi pregiudizi, dal pensatore puro. Dall'altro c'è chi considera l'antisemitismo di Heidegger come parte integrante della sua filosofia. Io ritengo entrambe le posizioni problematiche perché il pensiero puro non esiste. Il pensiero si svolge nelle teste, che sono teste di uomini, e se in queste teste ci sono altri pensieri, essi hanno in qualche modo a che fare anche con il pensiero filosofico. Io non credo che i ressenti Mann, nel momento in cui si articolano sotto forma di antisemitismo, meritino di essere chiamati filosofia. La filosofia, nel senso in cui la intendo io dai tempi di Socrate, ha a che fare con la ricerca della verità, non con la presunzione di avere la verità. E i ressenti Mann di tipo antisemita sono non veri e perciò non sono in sé filosofici. Ma se nessuna delle due posizioni che ho appena tratteggiato sono convincenti, allora come bisognerà considerare i testi di Heidegger? La soluzione per me consiste nel domandarsi in che modo il pensiero filosofico di Heidegger abbia reso possibili i suoi ressenti Mann antisemiti, nel chiedersi come tali ressenti Mann abbiano potuto introdursi nella sua filosofia e al tempo stesso rappresentare l'impossibilità della filosofia. Questo è ciò che dovremmo cercare di spiegare con la maggiore esattezza possibile nel lavoro su questi testi negli anni a venire. Allora per utilità Rassan Timon, questo Rassan Timon a cui fa sempre il riferimento figale e poi il risentimento. L'idea che appunto gli ebrei siano persone ricche e cattive che portano via risorse alla gente e quindi il piccolo borghese che si avventa sugli ebrei come causa di tutto questo. Qualcuno di questo genere nella psicologia di Heidegger indubbiamente c'è. Il punto è, e lo diceva anche Figare, di capire se questa psicologia poi determina fino in fondo la sua opera oppure invece no. Cioè quanto di quaderni neri c'è in l'essere e il tempo, o meglio per evitare che si diffonda l'errore in essere e tempo? Ma appunto quest'antisemitismo è molto precoce in Heidegger, noi lo conosciamo dal 1916 in una lettera alla futura moglie Elfride e appunto il problema... L'ha fatto per se tu, lo sappiamo che anche Elfride... Sì certo, era molto simpatizzante. Ma io ritengo che, quindi chiaro, essendo così precoce ci si pone il problema di essere e tempo. Io ritengo che non ci sia contraddizione tra l'adesione di Heidegger al nazismo è stato manifesto ed essere e tempo. Perché in essere e tempo si afferma una radicale disuguaglianza originaria tra popoli, tra comunità. Questo insomma attraverso un esame, voglio dire, specifico del termine di mondo, dell'esistenziale, dell'essere nel mondo e dell'essere gettato. Heidegger praticamente distrugge completamente un concetto di universalità umana e con ciò l'uguaglianza che era stata prima illuminista e poi marxista. Secondo lei invece? No, io non sono d'accordo su questa contraddizione stridente tra le posizioni che con sempre più chiarezza emergono di adesione al nazismo per quanto critica e di antisemitismo che emergono proprio dalla lettura dei quaderni neri. Penso che ci sia una contraddizione dentro il pensiero di Heidegger. Cioè ritengo che Heidegger sia un filosofo politico e quindi la sua compromissione con il nazismo non sia un'ingenuità, non sia un incidente di percorso, ma abbia un legame come diceva Levitt, un legame essenziale con il suo pensiero. Però questo legame è contraddittorio, esprime delle aporie interne al percorso di Heidegger. Anche, diciamo, schiacciare tutto Heidegger su un momento di un cammino di pensiero che dura più di 60 anni mi sembrerebbe riduttivo. Così come mi sembrerebbe riduttivo leggere la filosofia di Heidegger solo nell'ottica del filonazismo e dell'antisemitismo. In essere tempo, come ricorda anche un filosofo con delle radici ebraiche decisive come Levinas, l'adesione è quasi impensabile. Ci sono degli acceni nella parte sulla storicità, però essere tempo contiene molto di più, contiene una concezione del tempo assolutamente inedita che ci permette di rileggere tutta la storia della filosofia in un certo modo. C'è un riferimento a Kant, è molto importante, e l'Heidegger di quegli anni è fortemente interessato. Sì, però uno potrebbe obiettare. È difficile aderire ad un partito che ancora non è al potere. Parliamo del 1927, Hitler sarà al potere nel 1933. Il punto è però, anch'io, per quanto può contare a mio parere, sono convinto che c'è una trasposizione in opera, in essere tempo, che determina il pensiero di Heidegger e che lo porta al di là della circostanza stretta dell'antisemitismo. Ma questo vale per le opere dopo essere tempo? Questa è una domanda che farei... Lasciamo per il momento impregiudicato essere tempo. Mettiamolo in mora. Ma, per esempio, i seminari su Hitler, mi viene da dire su Hitler, perché... No, su Nietzsche, dove però celebra le vittorie di Guderian nella campagna di Francia. Quindi sono cose molto pesanti del 1940. Questi come li valutiamo? Ma, certo, io credo che una cosa importante... Diciamo, usare il termine coerenza quando si parla, insomma, di un atteggiamento razzista non è un bel termine. Però io credo che ci sia invece una grande continuità, perché quei seminari di cui tu parli sono eclatanti nel testo di Manuel Fay e sono molto ben spiegati. Però, se noi guardiamo, per esempio, nei quaderni neri, l'accusa principale agli ebrei, che è quella di assenza di mondo, noi vediamo che la stigmatizzazione dell'assenza di mondo, del privo di mondo e dell'assenza di suolo, è già in essere e tempo molto ben stigmatizzata. Io credo che quello che dice Paolo è sicuramente vero, però è importante vedere la continuità e quindi non considerare un Heidegger staccato. Per quanto riguarda specificamente l'antisemitismo, io ho parlato prima di una forma di razzismo, secondo me, in essere e tempo, ma con l'ebraismo per questa assenza di suolo si va oltre a questo, perché essendo l'essere nel mondo, nell'accezione che ho indicato, uno specifico dell'umano, gli ebrei per Heidegger sono totalmente annullati in quanto esseri umani, perché sono privi di mondo. Ecco, questo è un punto su cui possiamo tornare nella seconda parte di questa conversazione, perché adesso c'è un intervento filmato di Gianni Vattimo del 2009, importante precisarlo perché è prima della pubblicazione dei Quaderni Neri, in cui Vattimo dà questa ipotesi, allora prevalente, ha avuto questo piccolo momento, così una piccola debolezza, un piccolo flirt con Hitler e poi tutto è passato. Negli anni 30 Heidegger ha avuto quella che più tardi, in uno scritto intitolato Lettera sull'umanismo nel 1946, dopo la seconda guerra mondiale, ha chiamato la svolta del suo pensiero. In che cosa consisteva questa svolta? L'ho già accennato nell'idea che non si potesse parlare dell'esistenza del singolo esserci fuori dall'ambito storico dentro cui è gettato. Noi potremmo dire come vuoi diventare autentico pensando alla tua storicità senza assumere concretamente un impegno rispetto alla tua storicità effettiva. Heidegger sbaglia, assume questo impegno mettendosi con i nazisti, ma lasciandoli perdere abbastanza presto e stando per conto suo, ripensando come dire sempre però a questo problema di come la civiltà europea è arrivata a questo oggettivismo tecnologico generalizzato che è una grave minaccia per l'umano. Da prima, quando ha fatto il nazista, Heidegger pensava che questa minaccia fosse presente soprattutto nel mondo comunista sovietico e nel mondo capitalista anglosassone. Si rende conto che capita lo stesso con l'itlerismo, con il nazismo in Germania, quindi guarda con sempre maggiore preoccupazione e distacco al mondo che si è formato durante e dopo la seconda guerra mondiale, parla spesso dell'energia atomica come la minaccia suprema, eccetera. Ma ancora una volta il suo problema è quello di aiutare la formazione di una concettualità collettiva meno concentrata sull'oggettività, sul possesso. Ecco abbiamo visto, Vattimo ha usato questa formulazione, ha lasciato abbastanza presto il nazismo, è sempre complicato dire quanto presto bisogna lasciare il nazismo, però in fondo uno potrebbe dire ma sarà vero? Perché pensiamo a un testo come la lettera sull'umanismo, quindi post bellico, i francesi lo stanno recuperando e come dire riabilitando e lui scrive l'assenza di patria diventerà di Heimat, diventerà un destino mondiale, in che tradotto dall'heideggeriano vuol dire hanno vinto gli ebrei. Certo, ma io ricorderei anche l'episodio accaduto a Roma in occasione della famosa conferenza su Elderlin all'istituto germanico. Come racconta Levit, Heidegger aveva il distintivo all'occhiello, il distintivo del partito nazista. E questo è nel 1936. E questo siamo nel 1936. Ma il punto filosofico mi sembra un po' questo, capire quali sono gli aspetti di debolezza del nucleo fondamentale del pensiero di Heidegger che gli hanno permesso queste cadute così gravi. Io credo che da un lato si possa parlare di formalismo e dall'altro di sostanzialismo, cioè in Heidegger c'è un formalismo perché c'è in essere e tempo un invito a una decisione che però non ha dei contenuti predeterminati, è una decisione per la decisione. Quindi può, come è mostrato dal discorso del rettorato, può aprirsi individuando una rottura storica determinata. Quindi pur che ci sia una rottura va bene tutto. Il che per inciso è tipico del movimentismo novecentesco, di destra o di sinistra. Cioè quando Badiou dice meglio un disastro che un desetra, rientra pienamente, cioè meglio un disastro che una mancanza d'essere, rientra in quella formula vuota. Invece d'altro lato c'è un sostanzialismo nel senso che c'è un discorso sulla lingua tedesca, sul primato del popolo tedesco, sul radicamento che fa oscillare Heidegger tra questi due poli, entrambi con il rischio di farlo slittare verso queste posizioni vicine al movimento italiano e chiaramente antisemite. Quindi è la filosofia di Heidegger in quanto tale che è chiamata in causa nei quaderni neri, non per condannarla completamente perché è una filosofia che contiene uno sguardo molto importante sull'intera storia del pensiero. Io questo lo sottolineerei. La parte, l'ascito forse più importante di Heidegger è proprio il suo dialogo con i grandi pensatori del passato. Ma è proprio questa grande importanza di Heidegger, la grande importanza di Heidegger su tutta la cultura del secondo novecento e sull'ontologia che è stata sposata dalla cultura postmoderna che ha sostituito appunto quella marziana. È proprio per questo noi dobbiamo insomma comprenderla profondamente. Io ritengo che non si possono ignorare, se guardiamo i quaderni neri e vediamo tutta la questione sull'annientamento fino ad arrivare appunto che secondo la storia dell'essere gli ebrei si sarebbero autoannientati per i motivi che sappiamo. Noi non possiamo dimenticare che nel 1933 per l'appunto Heidegger insegnava ai suoi studenti che il nemico peggiore era quello interno, ovvero sia quello innestato nella radice del popolo, cioè gli ebrei assimilati e che invitava gli studenti a prepararsi per un attacco a lungo termine con lo scopo dell'annientamento finale. Sì, questo è indubbiamente, però uno potrebbe dire, e nessuno nega questo, proprio quell'estremo formalismo, sto cercando di spiegare come una cosa di questo genere sostanzialmente enormemente grave, dato il formalismo giustamente presente in Heidegger, quello che poi l'ha reso fungibile da un liberal come Rorti, perché in fondo Rorti ha detto, e se questo qua avesse mollato il Fride e si fosse messo con Anna Arendt, se ne fossero andati negli Stati Uniti sicuramente non avrebbe fatto questo e avrebbe fatto qualche altra forma di radicalismo, capace anche che se la prendeva con Ku Klux Klan per dire, o che diventava un addetto del Ku Klux Klan, non me la vedo, questa estrema indeterminatezza politica di un pensatore politico. Sì, certo, però bisogna anche guardare un nesso fondamentale che lui aveva con quell'ideologia, noi nazista in particolare, e dobbiamo riferirci al discorso sull'annullamento dell'umanità. Lui ha sposato, secondo me, condivideva profondamente, e nella sua teoria noi troviamo questi echi, di una violenza specifica del nazismo, che è stata quella di eliminare la qualità umana, annullare la qualità umana nell'altro, che è spiegabile secondo me nei termini della pulsione di annullamento, per esempio, dello psichiatra Massimo Fagioli, perché va oltre il concetto di distruzione, e questo lui l'ha sposato perfettamente. Sì, però, questo è un punto su cui potremmo tornare avanti in altre occasioni, però, in fondo, Derrida, questo l'ha sempre visto benissimo, è stato heideggeriano e ha detto contemporaneamente come in Heidegger, per esempio, la critica dell'animale è un elemento razzista che nasconde ad altri tipi di critica. Quindi, non è che, come dire, essere heideggeriani significa necessariamente sposare l'ideologia di Heidegger. Assolutamente. Poi, sottolineare questo aspetto, che questa critica, diciamo, fa vedere come in certi momenti Heidegger sia molto vicino al movimento nazista, ma poi, a un certo punto, sviluppi delle critiche, assimilando il nazismo alla tecnica. Sì, 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 soprattutto dopo Stalingrado, come sappiamo. Ma a questo punto devo interrompermi perché si passa ad altro. Grazie. Grazie. Un'imkommender Denker, der vielleicht vor die Aufgabe gestellt wird, dieses Denken, das ich vorzubereiten suche, wirklich zu übernehmen, der wird sich einem Wort fügen müssen, das che ho scritto prima di Heinrich von Gleist e che ho scritto in uno dei miei notizbücher ho scritto in uno dei miei notizbücher, ho scritto in uno dei miei notizbücher, ho scritto in uno dei miei notizbücher e mi trete vor uno che non è ancora non c'era e mi piego un milaio di anni in vorao, vor suo spirito. Abbiamo con noi Roberta De Monticelli dell'Università San Raffaele di Milano e Luigi Perissinotto dell'Università Ca' Fosca di Venezia. Abbiamo appena visto Heidegger che legge Gleist e abbiamo anche visto un quaderno nero perché effettivamente tira fuori dallo scaffale quegli oggettini lì che si vedono sono quelli che adesso vengono pubblicati come quaderni neri. La questione curiosa è questa, la frase millenaristica a dir poco di Kleist ti dà l'impressione del tenore umano di Heidegger, di tutto il pathos heideggeriano. Secondo voi, parlando della fortuna di Heidegger, come è stato possibile che questo tipo di pathos sia stato così suggestivo per la sinistra illuminista e secolarizzata? Perché in fondo questo è stato un po' il destino di Heidegger, Heidegger ha avuto una fortuna di sinistra e non di destra dopo la guerra. Io direi che se noi ci fermiamo a questi tre moduletti del pensiero di Heidegger che vengono fuori dal fango nero dei quaderni neri appunto, che sono poi quelli dello sradicamento dell'essere, dell'ente dall'essere, della reificazione dell'ente e poi della macchinazione universale. Ecco, qui si vedono questi tre moduletti così comodi per quella sorta diciamo di de-responsabilizzazione costante degli individui di fronte alla storia, di cui purtroppo il pensiero di molta sinistra, già di matrice francofortese eccetera, ha fatto un'utilizzazione forse nata e sistematica. Vale a dire, pensiamo a queste grandi prosopopee, prosopopea che cos'è? È una cosa che diventa una persona, ecco queste grandi potenze, il capitale piuttosto che la finanza o la tecnica o appunto il neoliberismo, ecco questa è la colpa universale. E noi di fronte alla storia, di fronte alle norme, di fronte ai dati, noi persone, individui, che cosa siamo? Polvere sugli estivali della storia, direi bene. Ecco, è stato detto recentemente che in fondo il caso di Heidegger è un caso di farisaismo, cioè pensare che il nostro valore morale dipende dalle opinioni che si professano piuttosto che dalle azioni che si fanno. Questo però si applica anche molto bene all'intellettualità di sinistra a cui tutti noi apparteniamo, no? Sì, ma credo che uno dei punti, anche per riprendere la sua prima domanda, riguardi il fatto che la sinistra, ma mi riferirei soprattutto alla sinistra italiana, più diverso è il caso se si parlano di altre sinistre, di altri contesti culturali, non ha mai fatto i conti con l'illuminismo, per esempio. E ha considerato l'illuminismo l'obiettivo polemico, essenziale, fondamentale. E questo non appartiene solo ad Heidegger, alla tradizione che si richiama ad Heidegger. Appartiene alla scuola di Francoforte, appartiene a un certo tipo di marxismo, appartiene anche a tradizioni filosofiche più autoctone, nella mia formazione filosofica veneziana, la critica all'illuminismo, alla ragione che è sempre astratta, ai diritti che sono sempre formali, è stata una caratteristica dominante ed è spesso è stata considerata come l'erede della tradizione marxista o marxiana, come si voglia dire, più autentica. Questo non vuol dire ritorniamo all'illuminismo, tra l'altro quel solito movimento di ritorno che è anche tipico, ma vuol dire che è il grande impensato di molta cultura filosofica novecentesca, l'illuminismo. In effetti io ho questo netto ricordo che al liceo ti dicevano che l'illuminismo era una cosa buona e poi all'università ti dicevano che era la cosa peggiore del mondo, quindi va abbastanza specie. Ed è effettivamente questa critica che poi sta alla base, sappiamo che Heidegger ha applaudito al patto Ribbentrop-Molotov che gli sembrava il gran momento in cui i due forze anti-illuministe della storia, cioè la Russia e la Germania si sarebbero alleate contro la tenaglia della tecnica dell'americana, dei banchieri, eccetera. Al di là dell'illuminismo è l'intera modernità, io direi, che è sotto attacco in questo modo di pensare in cui i principi fondamentali, che in fondo hanno radice socratica addirittura, che sono quella della vita esaminata in definitiva, quindi insomma dell'autonomia anche dell'individuo che è capace anche di sradicarsi, non è vero, dal suo contesto, precisamente perché tende a una universalità del suo pensare e agire da un lato e dall'altro anche questa idea per cui la ragione non ha un etnia e non ha un Blut, un Boden, un terreno, una tradizione. Ecco, questa ossessione heideggeriana per lo sradicamento, che è quella che poi ha portato fra l'altro a un filo rosso dei quaderni neri, ahimè, quello appunto contro Husserl. È sempre un dolore per un fenomenologo sentire chiamata fenomenologia il pensiero di uno Heidegger che è stato così, come dire, il massimo, se vogliamo, traditore, se possiamo usare questa categoria, troppo morale, degli assunti fondamentali poi di quel maestro che fu anche tradito poi nei fatti, diciamo con la sospensione della venia alle Ghendi. Devo interromperla perché adesso abbiamo un altro intervento filmato di nuovo di Vattimo che ci parla appunto della sua prospettiva, molto espressiva di quanto si è detto adesso, rispetto all'impegno politico di Heidegger. In questi ultimi anni della sua vita, muore come abbiamo detto nel 1976, si concentra soprattutto sulla critica della società contemporanea, dunque assume davvero, come aveva voluto già in essere tempo, la propria storicità concreta, non parla genericamente dell'uomo nell'età della tecnica, ma parla dell'uomo nelle società industrializzate in cui stiamo tutti noi. E ritiene che non si possa, come dire, realizzare nessuna autenticità individuale se non trasformando la società in cui si è. Non è certo un rivoluzionario come Marx, però il suo insistere sul fatto che noi non siamo individui che si salvano o si dannano da soli, ma che apparteniamo ad un'apertura storica e dobbiamo in qualche modo ascoltare ciò che il nostro mondo ci dice per corrispondervi e rispondervi. Non è tanto lontano da certi idee marxiane che dicono che dobbiamo criticare l'ideologia dentro cui siamo gettati per non esserne totalmente preda. Per diventare autentico Heidegger dice che devo assumermi la responsabilità storica del mio essere. Ecco, abbiamo visto Gianni Vattimo che esprime questa opinione in qualche modo classica, dice l'impatto politico di Heidegger e il suo nervosismo antiborghese, però in definitiva anche Hitler era un nervoso antiborghese, era nervosissimo da questo punto di vista. Dunque come dobbiamo valutare, professor Perissinotto, un impegno politico così indeterminato e variamente fungibile? Non ho davvero un'opinione molto determinata sulla questione, nel senso che questo tema del rapporto tra filosofia politica, impegno politico e speculazione filosofica, come si diceva una volta, si presta anche a tantissimi fraintendimenti. In più l'antiborghesia è una cifra così vaga, così neutra, che per così dire è poco esplicativa. Sicuramente c'è un aspetto di molta filosofia novecentesca, in particolare anche di un filosofo che io amo molto come Wittgenstein, per così dire che interpreta quasi sempre, almeno in alcuni aspetti nel caso di Wittgenstein, la filosofia come opposizione. Cioè non si è filosofi fino in fondo, non si è con un avverbio molto complesso, autenticamente filosofi, per così dire, se non si operano rotture, che poi possono essere rotture di tipo, una volta si diceva epistemologico, rotture concettuali, rotture speculative, che poi hanno la loro controparte politica. Credo che ancora adesso, detto anche banalmente, molti studenti di filosofia sono a priori di sinistra, termine anche giocoso e vago, che se si è filosofi, per così dire, non ci si riconosce in una continuità istituzionale, politica, storica. Certo, in effetti questo elemento della rottura, dell'identificare la filosofia come rottura, quindi decostruzione, dialettica negativa, ti spiega bene perché un filosofo come Heidegger può aver avuto questa presa. Un filosofo più, come dire, diceva Habermas urbanizzato come Gadamer, però mi ha raccontato una volta che gli avevano regalato per i 18 anni un ombrello, poi l'ha perso, però è stato contento di aver perso l'ombrello, che all'epoca era un oggetto tecnologicamente costoso e complesso, perché era troppo borghese avere l'ombrello, quindi non gli spiaceva. Comunque, ecco, questo elemento della critica però è di per sé qualcosa che caratterizza solo il Novecento, in fondo la critica alla ragione pure è stata scritta un po' prima. Senza dubbio, poi c'è critica e critica e poi c'è opposizione e opposizione e poi all'aspetto anti-esistente che si coniuga a volte con il fervore politico, diciamo così, rivoluzionario, si deve comunque accostare l'aspetto etico che è nel DNA della filosofia che io sappia da Socrate in poi. Ecco, questo manca totalmente, diciamo, da almeno tre categorie di pensatori, appunto gli hegeliani, gli heideggeriani e, ahimè, gli eredi di una certa sinistra, soprattutto italiana, francese, europea, che hanno in qualche modo davvero riconvertito a questo modo di pensiero che un mio maestro, non dico maestra perché fa un po' ridere, ma è una donna, Jean Hersch, ha definito un modo di pensare dittatoriale e irresponsabile, cioè quello di Heidegger. Ecco, è stato riconvertito in termini appunto di fondamentalmente rifiutiamo l'esistente, rifiutiamo il pensiero unico, anche oggi ce ne sono svariati, diciamo, items sul mercato. Ecco, e questo però sempre nell'assenza di una dimensione abbastanza fondamentale che è quella, uno, della giustificazione di quello che uno dice, ragionevole, appunto, che permetta poi di esistere nello spazio delle ragioni, che è poi quello della nostra democrazia, da un lato, e l'altro è quello effettivamente di una individualità che non può essere confusa con il no all'ammasso. Bisognerebbe anche entrare un po' nel... questi due aggettivi, dittatoriale e irresponsabile, dicono entrambe le cose. Ecco, io ringrazio molto sia la professoressa De Monticelli, sia il professor Perissinotto, e tra le tante cose importanti che sono state dette, una in particolare vorrei sottolinearla, cioè la specificità, non bisogna essere parrocchiali riguardando dalla prospettiva italiano, forse francese, universalizzarla. Lo si può vedere bene nella testimonianza di un filosofo svedese, Hans Ruin, che ci racconta un approccio con Heidegger tutto diverso e per i nostri occhi sorprendente, cioè lui negli anni Ottanta diventa heideggeriano quando tutto intorno a lui è contro Heidegger, cosa per noi quasi inconcepibile. Molte grazie. Io credo che il sistema filosofico di Heidegger abbia esercitato una grande influenza nel XX secolo, che continui a esercitarne anche oggi in diversi modi e che continuerà a esercitarne anche in futuro. Quando ho iniziato a studiare filosofia agli inizi degli anni Ottanta, nessuno aveva mai scelto Heidegger come argomento di tesi per la laurea in filosofia, perché di fatto era vietato. Se scrivevi una tesi di laurea su Heidegger, poi non potevi fare il dottorato e ricevere una borsa di studio. Heidegger veniva criticato sia per il suo pensiero politico, sia per la non scientificità del suo sistema filosofico, e questo, nell'ambiente filosofico scandinavo, ispirato molto al positivismo logico, voleva dire essere esclusi dai vari circuiti filosofici. Successivamente però, in modo singolare e quasi per ironia della sorte, in Svezia sono nati degli studi accademici su Heidegger grazie ad alcuni rifugiati ebrei polacchi che erano giunti alla fine degli anni Sessanta e che conoscevano la fenomenologia. Essi cominciarono, pian piano, a insegnare nelle università. È grazie all'opera di queste persone, che erano sopravvissute all'Olocausto e che erano giunte in Svezia in seguito all'occupazione comunista, che è stato nuovamente possibile studiare la fenomenologia in Svezia. Il mio mentore era un filosofo polacco ebreo a cui era stata sterminata la famiglia durante la guerra. Ecco, questa è la nostra storia. Anche se fin dall'inizio conoscevamo i suoi scritti politici di stampo Destorso, infatti si tenevano costantemente seminari su questo tema, sentivamo che comunque era possibile leggere e studiare quel materiale, prescindendo da questo aspetto. Adesso, dopo i quaderni neri, la situazione è un po' cambiata, perché questi taccuini ci restituiscono un'altra immagine, non necessariamente della filosofia, ma anche dell'uomo, dell'intellettuale Heidegger. Per molti di noi, per me, i miei colleghi, i nostri studenti, ciò significa rivedere l'immagine della sua figura pubblica di intellettuale e capire se Heidegger possa essere considerato comunque un modello di pensiero. Certamente la parte essenziale della sua opera, per noi molto importante, continua a sussistere anche dopo i quaderni neri, nonostante ora io avverta una specie di rancore per l'uomo, che mi appare diverso da come lo percepivo prima della lettura di questi taccuini. Professor Vitiello dell'Università, Vincenzo Vitiello dell'Università San Raffaele di Milano e Professor Stefano Poggi dell'Università di Firenze. Il tema è quello adesso della attualità di Heidegger, mi spiego. Nel dicembre scorso Charlie Hebdo, che non è precisamente un giornale filosofico, diceva che possiamo ancora essere heideggeriani. Si poneva nel problema perché dice che in fondo erano stati heideggeriani perché ritenevamo che fosse una posizione di sinistra. Però adesso come si può essere heideggeriani? Che tipo di attualità ha Heidegger? Professor Vitiello. Io vorrei precisare alcune cose perché altrimenti questa attualità diventa molto fumosa. insomma, Heidegger è stato nazista ed è stato nazista per tutta la vita. Heidegger è stato anti-ebreo ed è stato anti-ebreo per tutta la vita. Questo cerchiamo di tenerlo presente e allora questa attualità deve essere valutata in un certo modo e cioè in che modo? Ridurre i quaderni neri, ciò di cui si parla, all'anti-ebraismo, al nazismo eccetera eccetera, mi sembra che si faccia un'operazione troppo modesta perché c'è questo, l'ho detto sin dall'inizio, ma c'è parecchio di più. E che cos'è questo parecchio di più? Ma brevissimamente un riferimento continuo a essere e tempo. Essere e tempo dice è stato il pensiero che mi è stato assegnato. Io sono sempre stato lì a meditare questo determinato rapporto tra essere e tempo. E che cosa significa questo? Significa che ho rivisitato l'intera tradizione del pensiero e della storia dell'essere attraverso questo prisma, questa considerazione. Ecco, ciò detto, noi possiamo ritornare con tutti questi problemi proprio ad essere e tempo. Un'opera capitale, un'opera che ha dominato la cultura del Novecento, direttamente e indirettamente. Questo è un punto importante anche perché una delle cose più evidenti nei quaderni neri che dunque li annulla come interesse filosofico è il fatto che lui fa continuamente riferimento a essere e tempo e ha il problema di andare oltre, mentre lui non è andato oltre a essere e tempo. Cioè, in fondo, lui, la cristallizzazione del pensiero di Heidegger è il 27 e dopo quasi più niente. La metto in questi termini per porre la domanda al professor Poggi che si è occupato del giovane Heidegger, cioè dell'arco che lo porta verso essere e tempo. Ma sì, io sono dell'avviso che se dobbiamo parlare dell'attualità o non attualità ancora di Heidegger, forse potremmo prendere sul serio quello che lui diceva ad Aristotele. Che cosa ha scritto? Che cosa ha fatto? E lo collochiamo in un contesto di storia del pensiero occidentale, certamente. E bisogna dire che è un tipico caso di una filosofia accademica, quella di Heidegger, che riesce però, e questo sta alla sua, bisogna dire, grandezza, perché è un fatto, almeno la sua presenza nel Novecento, un filosofo accademico che è riuscito a svuotare completamente, comprendendone il senso della filosofia accademica di cui era il prodotto. E in questo direi che l'attualità di Heidegger c'è, da una parte perché ha in fondo apposto il senso del lavoro filosofico in un mondo in cui tanta parte del protagonismo filosofico è risultato eroso dalla conoscenza scientifica, da quello che si sa intorno al mondo, a quello si sa intorno anche alla persona. E dall'altra la presenza, direi, e questo è un aspetto interessante, io dobbiamo, se assumiamo appunto il punto di vista che Heidegger afferma necessario per discutere di Aristotele, la presenza certamente di questi elementi di autocritica del pensiero filosofico trasferiti dal continente europeo anche al contesto statunitense, dove Heidegger è presente non solo per la così componente diciamo più nicciana, più di interesse per che cosa è successo al di là dell'Atlantico, ma per l'attenzione per il problema dei fondamenti stessi della logica, diremmo, del rapporto della logica con il linguaggio, la presenza addirittura di componenti di pragmatismo statunitense che sono finite in Heidegger e sono probabilmente alla radice della critica che credo sia tuttora molto graffiante, molto mordente, non ho nessuna particolare simpatia per lo Heidegger nazista, ma però per la robustezza del pensatore bisogna prenderne a proposito dell'influenza di Heidegger oltre Atlantico, abbiamo qui una testimonianza filmata di Ryan Coyne, che è uno studioso americano interessato particolarmente di teologia, però ovviamente sensibile a tutti gli altri elementi del pensiero americano. È possibile distinguere il pensatore dal pensiero, la vita dei singoli dal loro sistema di idee. Heidegger stesso aveva applicato questa distinzione. Un giorno pronunziò una frase su Aristotele che è rimasta celebre e che recita così, egli nacque, lavorò, morì. Heidegger voleva dire che la vita, la biografia del pensatore non è importante, non è essenziale per la propria filosofia. L'aspetto interessante dei quaderni neri è che, nel caso specifico di Heidegger, forse non è possibile tracciare una distinzione, o almeno non una distinzione di questo genere. Mi spiego. Gli studiosi di Heidegger hanno cercato di tracciare questo genere di distinzione, ossia di separare la vita di Martin Heidegger dal suo pensiero filosofico. Questo perché nei quaderni neri questi due elementi sono profondamente intrecciati tra loro. Ecco perché è necessario ripensare questa distinzione tra l'uomo Heidegger e il suo pensiero filosofico. Ma non si può dire semplicemente che nei quaderni neri troviamo il fallimento di una persona e non di un sistema filosofico, il fallimento della persona, Martin Heidegger, che fece determinate scelte politiche, ma non del suo sistema di idee, nella convinzione che il pensiero possa in qualche modo sempre rigenerarsi e proseguire il suo cammino. Con questo non voglio dire che sia necessario mettere da parte il pensiero di Martin Heidegger in quanto tale, ma che forse la tragedia di cui sono intrisi questi taccuini acquisisce un senso, se si pensa che il fallimento personale di Martin Heidegger possa effettivamente aver avuto delle ripercussioni sul suo pensiero e che questi problemi e questi fallimenti forse si innestano su tutta una tradizione. E ricordiamolo, nessuno ci ha fatto riflettere sulla tradizione quanto Martin Heidegger. Ecco perché forse dobbiamo chiederci se il fallimento della persona e del suo sistema filosofico non riflettano il fallimento di tutta una tradizione. Questa per me è la domanda più interessante che questa opera suscita. Professor Vitiello, il professor Poggi diceva una particolare robustezza del pensiero di Heidegger e io credo che lei condivida questo punto di vista. Quali sono i tratti di questa robustezza, un po' come la fidabilità delle scarpe dipinte da Van Gogh a cui fa riferimento a Heidegger in un suo testo famoso che lei trova rilevanti? Dunque la robustezza del pensiero di Heidegger è rappresentata dal fatto che Heidegger è in contraddizione con Sembedesimo dall'inizio alla fine. La prima parte di essere e tempo si fonda sull'essere nel mondo, la seconda parte sull'angoscia. E questa spaccatura, questa divisione, nel momento in cui si afferma il tema dell'essere nel mondo, il tema della partecipazione alla terra, il tema del paganesimo molto presente, Heidegger è nazista, Heidegger è anti-ebraico. La terra è mia, ve l'ho data soltanto in, come dire, non in possesso, una donazione temporanea. Questo è il dio ebraico che lo dice al suo popolo. Un pensatore malevolo, scusi però, un ascoltatore malevolo, se questa robustezza se la tenga, no? No, 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 questo ci insegna forse a pensare diversamente, cioè a pensare non una ragione universale, ma una ragione particolare, una ragione divisa, una ragione in continuo contrasto con Sembedesimo. Volete di nuovo la robustezza del pensiero? Volete ancora il pensiero che definisce tutto, il pensiero universale. Magari, no, ecco, e allora, fare esperienza, fare esperienza di una filosofia del finito, questo ci insegna Heidegger. Se lo sottraiamo a questo, noi perdiamo qualsiasi senso della riflessione filosofica. È la stessa robustezza per lei? Cioè, lei è d'accordo sui criteri di robustezza fatta a male? Cioè, dico che c'è anche un altro aspetto, forse interessa non tutti, del pensiero Heideggeriano, che è la riflessione sui fondamenti ultimi del pensare stesso. Il confronto con il problema del nulla e della negazione non sono la stessa cosa, che sono abbastanza centrali, sia in essere tempo, sia nelle opere precedenti, sia in tutto anche la fortuna heideggeriana, questo è abbastanza importante, abbastanza posto in termini di un radicalismo non banale. In fondo la stessa posizione di un Carnap nella celebre critica distruttiva nei confronti di essere tempo, in realtà poi rivela una comunanza di interessi e di necessità di pensare, il fondamento anche in termini proprio logici, che avvicina o fa vedere Heidegger che con la sua eredità, con la sua presenza, è un interlocutore importante. Ecco, ma questa idea del fondamento, perché adesso sembra malevolo, ma anche Carnap sappiamo era antisemita. Quindi questa idea del fondamento come esigenza di un'iperradicamente, quindi dell'antipatia per quelli che sono un po' meno fondati degli altri, non è che c'è sotto qualcosa? Eh, può darsi in parte, io credo che anche quello che dice Vincenzo Vitello sia molto, sia giusto e sia questo pensiero portato se vogliamo agli estremi, questo porsi in continuazione ma se posso interloquire, insomma, un pensiero che si è affermato nella forma del nullo fondamento, di una nullità, voi adesso lo volete riportare alla fondazione, lo volete, come dire, riportare ad una teoria egheliano-marxista? Io lo lascio dire, beh, no, 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 è questo che io, insomma, la domanda che ci dobbiamo porre, ed allora se leggiamo i quaderni neri, dai quaderni neri apprendiamo proprio questo, che c'è una distanza abissale nei confronti di Hegel, perché il problema per Heidegger nei quaderni neri, il problema della chichiste, non è più quello di descrivere la storia dell'essere, ma quello di mostrare come l'essere si manifesta solo nascondendo, cioè che il problema non è quello di cambiare i rapporti del mondo, questa è l'attualità di Heidegger, non si tratta di cambiare i rapporti del mondo, ma il problema di vivere in modalità diversa questo, e questo getta luce anche sulla, come dire, sulla continua insistenza su identità, su autenticità e inautenticità, non ci sono due mondi, è lo stesso mondo che vivi, da questo punto di vista c'è tutta la meditazione forte, se si parla di teologia, ricordiamoci la riflessione di Heidegger su Paolo, è una cosa fondamentale, se dimentichiamo questo. È un capitolo grosso che non può essere dimenticato, così riducendo. Guardi, posso vivere tutta la vita senza Paolo, mi creda, il punto è che non è che uno può mettere, è importante Paolo, è importante Hegel, ma la questione è questa, per esempio lei ha detto la particolarizzazione del pensiero, non più universale, adesso le faccio vedere Davide Spinet, che è un filosofo francese, per Heidegger chi parla in francese non pensa. Per me Heidegger era il filosofo che era stato capace di produrre in modo eccezionale delle concrezioni di pensiero. Il mio primo lavoro su Heidegger verte sull'ascolto, la fenomenologia dell'ascolto. Mi ha affascinato questa capacità di descrizione e di trasformazione di questa descrizione in concetto. Il libro è stato scritto ormai diversi anni fa e leggendo ora Heidegger, alla luce dei quaderni neri, sicuramente molto è cambiato. La concrezione è rimasta, ma le concretudini si sono arricchite in un modo che definirei mostruoso. La sua abilità di pensare la storia, la concrezione, la fatticità ha subito una svolta incredibile. E la domanda che mi pongo oggi è, cosa si può salvare di questo edificio dell'essere che è in fiamme? È necessario abbandonare questo edificio? Sono state date diverse risposte e la risposta è certamente molto complicata. Alcuni vogliono salvare il più possibile, perché ritengono sia l'unico modo per salvare il sistema filosofico di Heidegger. Io ritengo che non sia possibile salvarlo, andando a sviscerare quegli elementi concettuali che sarebbero esenti dall'antisemitismo e dallo sciovinismo heideggeriani. Personalmente credo che sia possibile salvare questo edificio in fiamme solo se lo si utilizza come un terreno di battaglia della filosofia critica, per capire se sia il luogo dove la filosofia del ventunesimo secolo può imparare a praticare un'autocritica della filosofia nei suoi momenti più funesti. Io penso che non si tratti di salvare Heidegger. La filosofia contemporanea deve comprendere che il caso Heidegger non è chiuso, ma che è tuttora vivo e che costituisce il luogo del ventunesimo secolo per studiare la fallibilità della filosofia nei suoi recessi più viscerali, profondi e anche mostruosi. Ora si avverte l'urgenza per quelli che come me hanno iniziato la loro carriera accademica con Heidegger di concentrare nuovamente i propri sforzi su di lui e di cominciare questo lavoro critico. Professor Vitiello, allora, lei diceva che era importantissimo Paolo per capire Heidegger. È importantissimo perché Paolo, all'origine della seconda sezione di Essere Tempo, cioè quando si parla dell'angoscia del non fondamento. E questo è il punto. Perché si tratta di ripensare il cristianesimo alla radice e di pensare il cristianesimo secondo il quale la verità non è di Paolo che viene comunicata ai tessalonicesi, ma è la verità dei tessalonicesi che nella parola, nell'accettazione dei tessalonicesi diventa la verità poi di Paolo. Cioè è un'inversione completa proprio dei rapporti e questo è presente nei quaderni neri. I quaderni neri ad un certo momento Heidegger distingue tra Christentum, che è il cristianesimo storico, da Christlichkeit, che è la fede in Cristo e a Cristo. Queste cose credo che siano importanti perché altrimenti riduciamo Heidegger ad un modellino del quale è inutile parlare dell'attualità. Un modellino di cui non abbiamo proprio niente a che fare. O si guarda Heidegger in maniera completamente diversa e credo che lo meriti, oppure ne possiamo fare proprio a me. Va bene, valuteremo le ipotesi che ci prospetta. Professor Poggi. Ma io penso che appunto ci siano queste componenti presenti, cioè non si può guardare Heidegger solo dal punto di vista della storia dell'escatologia, della teologia, anche se è vero che lì è una presenza fortissima. Bisogna guardarlo anche dal punto di vista della storia della filosofia in generale, dell'ontologia, della riflessione sui fondamenti della logica stessa. Non dimentichiamoci che Heidegger è partito discutendo di queste questioni e il suo complesso rapporto con Husserl, che non è mai un rapporto di discepolanza, si gioca proprio sul piano del primato dello psicologico e del logico. Heidegger è per il primato del logico apprezzo anche della distruzione dell'individualità, della persona, del carattere così di angoscia che dissolve l'individuo quando pensa cartesianemente di essere al centro del mondo. Credo che un punto rispetto ad Heidegger l'abbiamo acquisito, cioè la sua capacità di mescolare registri diversi in quello che invece, per esempio, quando Thomas Bernard lo definisce invece come una specie di imbecilia delle prealpi, così lo definisce, che segue un unico filo conduttore. In realtà il suo talento è stato proprio quello di mescolare, per esempio, chi riuscirebbe a trovare un nesso tra la logica e l'angoscia? Ed effettivamente lui è riuscito a trovare questo nesso come in questa... in fondo questa... adesso io vi ringrazio molto per questo vostro intervento e ringrazio il professor Vitiello e il professor Poggi per l'apporto che han dato, perché ci permettono anche di vedere meglio... c'è un pezzo d'annata ancora più antico ed è Alberto Lupo che con un'aria ispirata alla Richard Barto, molto bello, ci legge dei passi di che cos'è metafisica di Heidegger e ci restituisce questo tipo di patos heideggeriano molto forte che è stato all'origine, io credo, dell'enorme fascino che ha esercitato su, come dire, figure, persone e storie intellettuali e culturali completamente eterogenee nel corso del Novecento. Grazie. E allora che cosa vuoi? La pace la troverai in Dio, nel nulla. Sprofondati in qualche cosa di più tranquillo del nulla. Ma se la massima pace è Dio, allora non diventa Dio anche il nulla. Ma io sono un ateo. Senti questa maledetta teoria. Qualche cosa che esiste non può diventare nulla. E io sono qualche cosa. Questa è la disgrazia. La creazione è penetrata dovunque. Non c'è nulla di vuoto. Dappertutto c'è qualche cosa che brulica. Il nulla ha assassinato se stesso. La creazione è la sua ferita. Noi siamo le gocce di sangue. Il mondo è la tomba in cui marcisce. Questo sembra pazzesco. Ma dentro c'è qualche cosa di vero. Tutti siamo sepolti vivi. E rinchiusi come i re in tre o quattro bare sotto il cielo. Dentro la nostra casa. Dentro il vestito. Dentro la camicia. Così non c'è speranza nella morte. La morte è una putrefazione più semplice. La vita più complicata e più organizzata. Ecco la differenza. Ecco probabilmente se si dovesse riassumere tutta la filosofia di Heidegger in una parola questa sarebbe proprio l'angoscia a cui faceva riferimento Alberto Lupo citando questo celebre discorso heideggeriano. L'angoscia è un sentimento che non inganna si è detto giustamente è un sentimento fortemente produttivo di tante cose che non necessariamente sono buone. e l'angoscia per esempio che si traspone dentro a essere tempo e quindi diventa un capolavoro filosofico oppure anche la stessa medesima angoscia che sta alla base di quel sentimento di umiliazione di frustrazione di terrore dei piccoli borghesi tedeschi che ha portato al nazismo. Questi due elementi vanno sempre uno accanto all'altro però evidentemente non possono essere equiparati. grazie a tutti. Grazie a tutti.